La città di San Mauro Torinese ricorda la tragedia dell'attentato, lettori gemelle, avvenuta l'11 settembre 2001. L'attentato dell'11 settembre 2001 è stato uno dei primi atti, anzi è stato il primo atto terroristico significativo verso la società occidentale. Noi lo ricordiamo come ricordiamo tutti gli altri attentati che sono avvenuti fino all'ultimo di un mese fa a Barcellona. Non vogliamo arrenderci a questi atti di terrore e quindi continuiamo a patrocinare e a organizzare le nostre feste, le nostre tradizioni in modo che pensiamo che sia il modo più significativo per combattere questi atti terroristici, continuando a vivere la nostra vita, nella nostra quotidianità e nelle nostre tradizioni. Questa cerimonia è anche un momento di riflessione? Una riflessione sulla nostra società, la società di oggi, la nostra società deve continuare ad andare avanti perché già c'è una congiuntura economica, ci sono tante problematiche, non possiamo essere le vittime di atti che ci bloccano la nostra quotidianità. In che maniera, a suo giudizio, si può reagire al terrorismo? Come ho detto prima, si può reagire a livello di organizzazione degli eventi, come stiamo facendo, con degli accorgimenti dovuti a ciò che i terroristici ci impongono. D'altro canto, dobbiamo agire nella nostra mente, non facendoci prendere dal panico e non facendoci incutere il terrore che loro auspicano di metterci addosso.